Nuovo appuntamento di SOS Arezzo TV, ritroviamo il nostro... Hai fatto un bello scoop la settimana del corso, mi ha detto quando ti ho lasciato su. Quando non ci sei, vedi... Stai scherzando, eh, dai. L'importante è che, più che scoop, l'importante è che il problema sia stato risolto e siamo infatti, come avevamo promesso, siamo tornati qui nella piazza Mintoli Fanfani, ossia all'ex caserma Cadorna, dove qui c'era la guardia, e dove in realtà di guardia ce n'era ben poca, perché questa porta, possiamo anche vedere le immagini... Intanto prima facciamo vedere che la porta è stata chiusa, prima era liberamente accessibile, tra poco rivedremo anche le immagini di quello che avevamo trovato all'interno. Vedi che ci hanno messo un lucchetto adesso? Non ti convince molto che tenga questo lucchetto? Eh, penso che non tenga. Comunque già... La buona volontà ci è stata messa. Assolutamente sì, perché come ricorderai, come ricorderanno i nostri telespettatori, all'interno, oltre a sporcizia di tutti i tipi, c'era una stanza dove c'erano dei letti e soprattutto in due tavolini c'era, diciamo, quello che sembra essere tutto l'occorrente per preparare le dosi. Ho visto, ho visto. Quindi è abbastanza così. Ma io spero che presto questo lucchetto venga aperto, l'amministrazione comunale faccia la bonifica di quest'area perché è veramente indecente. E anzi, visto che è una struttura di proprietà comunale, se ne faccia l'utilizzo e l'uso il più opportuno che si possa fare di una struttura, invece di lasciarla abbandonata, anche magari darla, se l'amministrazione comunale non ha con che usarla, darla in gestione a qualche ente morale per far sì che ci possa fare qualche attività o ludica, ricreativa, oppure anche di interesse sociale. Un'attività con un bar non ci sta proprio male. Bene? No, no, c'è l'inflazione, ogni 50 mesi sono un bar, dai, guarda. Qualcosa che possa riqualificare così, insomma, veramente, tra l'altro dall'altra parte c'è una finestra rotta, perché probabilmente poi noi siamo entrati solo in due stanze, ma probabilmente chissà cosa c'era nelle altre. Ma questo era il corpo di guardia, ma te l'hai fatto in militare? Io no. Lo sapevo che non eravamo anche per l'argina. Qui c'era il corpo di guardia e poi c'erano anche le celle. Te l'hai fatto qui? No, no, io ero raccomandato. Ah, che è raccomandato? Ero a Palermo. E no, c'erano sia il corpo di guardia, c'è anche le celle di rigore, CPR, CPS, tu le hai mai presi? No, io sì. Non manco cosa siano. CPR, scela di punizione semplice, scela di punizione di rigore. Tu ci sei mai andato nella scela di rigore? No, di rigore no, ma semplice sì. E quindi che cosa c'era qui? Queste celle, queste guardie? C'era il corpo di guardia che la notte dormiva qui in servizio per fare ronde intorno alla caserma. Invece purtroppo qui era la notte. Manca un picchetto e quindi di conseguenza la notte è diventato roba da pagordi. Sì, ecco, l'unica cosa che dobbiamo dire è che si poteva completare questa opera pulendo magari anche qui dove ci sono questi arbusti perché c'è sempre quella siringa. L'ho visto che l'ha visto, hanno tagliato anche le piante. Qui siccome è tutto secco, è schifo, potrebbero anche prendere una piccola motosecca e tagliare tutto perché in effetti questi... Non ha molto senso. Questa roba secca che non serve per assolutamente niente e che fa sporco. Quindi era il momento anche, magari lo faranno successivamente quando puliranno internamente, anche dare la pulita a queste liane. Altrimenti qualcuno ci fa talzano, ma è secca vanterra. Comunque ci fa piacere che il Comune sia intervenuto con questa misura, diciamo, rapida per chiudere questa porta e speriamo che magari sia, come dici tu, insomma, che ci sia anche un progetto perché siamo davanti allo sportello unico, ricordiamo. Siamo davanti a un parcheggio che è probabilmente quello più di successo della città di Arezzo, qui ci parcheggiano anche dei residenti. Quindi, insomma, vedere questo edificio così abbandonato e in cui all'interno, insomma, si consumava, speriamo già il passato, droghe, che non ci siano magari altre entrate che non sappiamo, quindi magari un progetto per riqualificare questo edificio sarebbe opportuno. Esatto, è uno dei pochi che è rimasto qui. Sicuramente la mia situazione adesso dovrà intervenire per quanto riguarda l'università. Non c'è più l'università qua, quindi di conseguenza deve utilizzare quest'area qua o direttamente o indirettamente. E in più c'è rimasto quest'ala qui e l'ara davanti alla palazzina comando, che è quella un po' sistemata. Dopodiché l'area è restituita completamente e vivibile alla città di Arezzo ed è importante perché siamo proprio nel centro storico. Vabbè, queste non hanno grande interesse storico le caserme dal punto di vista architettonico, per bene o male costruite nel ventennio sicuramente. Però a un certo punto siamo in centro città, quindi deve essere un posto degno, soprattutto poi come dici te, che è un parcheggio pubblico, il più utilizzato. La gente che viene dentro deve trovare un posto consono. Ci vediamo domani, ciao!